lunedì 21 ottobre alle 7 e due minuti ben trovati da Francesco Pini con Thomas in regia, questa è la di radio questo è il GR del mattino, le notizie del giorno, anche voi potrete raccontarci qual è il fatto più importante, scriverci un messaggio, mandarci un vocale al 3925727775 o chiamarci in diretta allo 055572637 parleremo di tanto, di molto, di tante cose, tanti fatti, ci sono novità e sviluppi sulle indagini che riguardano la pistola, la pistola che ha sparato, con cui ha sparato il giovane Scuti uccidendo la zia, si tratta di un'arma risalente alla guerra addirittura che è stata tramandata praticamente da persone del paese, questo emerge stamani ma vedremo come nonostante le ulteriori misure allo studio per regolamentare, per tutelare il tessuto commerciale nell'area unesco e non solo nell'area unesco, ci sono altri negozi, negozi anche simbolici che abbassano il bandone perché il problema è quello che non ci sono residenti ma torneremo a occuparci anche di trasporto pubblico locale perché spesso si dice no? Eh bisogna fare a meno del mezzo privato, prendete il bus, già ma quale bus? Stamani saremo proprio sugli autobus per cercare di capire effettivamente quello che non funziona e vi spiegheremo a partire dalle otto perché quando un autobus esce dal deposito alla mattina sta scritto nel suo destino che quello stesso autobus farà ritardo o salterà alcune corse, è già scritto, tutto quanto stabilito, prestabilito, non c'è possibilità di sbagliare. Questo è molto altra ancora nel GR del mattino ma intanto i fatti dall'Italia e dal mondo con la redazione nazionale. Grazie. 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 E naturalmente ci sarà anche prima pagina viola poi eh con Leonardo Petri alle sette e trenta per raccontarci cosa significa questo sei a zero della Fiorentina ieri a Lecce. Ben trovato intanto l'avvocato Guglielmo Mussuto caporuppo della Lega in Palazzo Vecchio. Buongiorno Mussuto. Buongiorno buongiorno a tutti. Allora prima le notizie del giorno però mi dica subito oggi so che porterà c'è consiglio comunale. Oggi alle due e mezzo consiglio comunale. Lei vuole risollevare veramente il. Preparerò una mozione come il primo delle due e mezzo. Oggi abbiamo abbiamo una mozione sul taser e appunto riproporremo l'utilizzo del taser per la Polizia Municipale. La pistola impulsi elettrice. La pistola impulsi elettrice che può servire anche come. Spare questi tardi no? E ti da una scossa. Estordire diciamo l'aggressore e può servire sicuramente anche come deterrente. Non è che deve essere per forza usata ma può servire come deterrente per esempio poteva servire anche per cui il fatto è successo nelle ultime cronache italiane insomma. A Verona c'è praticamente dove questa persona si è scagliata contro gli agenti col coltello e l'agente si è difeso sparando e l'ha ammazzato. Certamente l'egittima difesa ha ammazzato questa questa persona che l'avessi avuto il taser. L'avessi avuto il taser non avrebbe avuto un'alternativa. Non sarebbe morto questa persona. Sarebbe rimasta stordita e avrebbero levato il coltello e sarebbe stata arrestata e quindi sarebbe chiuso lì. Invece in questa maniera è l'unico l'unica maniera che ha avuto questa persona per difendere se stesso il collega è stato appunto. Quindi dice per quanto in letteratura ci siano casi di persone colpite dal taser e ci hanno lasciato le penne cioè è comunque un male minore c'è un rischio minore rispetto alla possibilità. Lo usano in varie città d'italia e quindi non ha mai dato non ha dato un problema. Lo usano anche le forze dell'ordine, la polizia municipale, le forze d'italia e la polizia appunto di stato. Quindi secondo me anche la polizia locale a firenze farebbe bene adotarsi. Anche perché una donna un uomo a mani nude affrontare uno con un coltello con un qualcosa di pericoloso penso che sia anche una sicurezza per se stesso e anche per gli altri. Allora messaggio al 3925 727775 già ci scrivono i nostri ascoltatori allora sugli autobus anzi sul trasporto pubblico in generale ieri ho preso la tramvia per andare in centro super affollata nessuno pagava il biglietto marocchini che forzavano le porte del convoglio e facevano casino oltre a essere volati due schiaffi tra due gruppi di loro un delirio stamani invece sei rischiata la lissa in treno ma vabbè lasciamo perdere la gente non è sicura tutti tutti parlano della tramvia degli autobus ma non sono sicuri dovrebbero mettere davvero un servizio di aiuto di controllo almeno nelle nelle tranvie più trafficate almeno un paio di persone due tre persone per ogni convoglio almeno due persone ci vorrebbero la sicurezza deve essere una che può andare la mattina alle sei e mezza a prendere l'autobus e rischiare ma anche alle otto le nove o alle dieci di sera e rischiare di essere aggredito questo però c'è la pol è partita la pol metro no gli agenti o otto agenti della questura di firenze ma doveva arrivare poi sono gli agenti della questura che hanno messo no 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 già 25 carabiniere sono arrivati poi stanno arrivando via via c'è un cronoprogramma che il il ministero sta rispettando allora 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 3 9 2 5 7 2 7 7 7 5 ma la domenica la municipale non pattuglia le cascine ieri mattina il solito mercatino di gente a vendere roba rubata in più continuano a spaccare vetri alle macchine non se ne può più allora ci torniamo prendo anche i contatti perché tra l'altro una cosa curiosa perché solitamente il mercato abusivo alle cascine noi eravamo abituati a vederlo nel in corrispondenza il martedì in con il mercato principale ora tutti i giorni è perché regola e la merce aumentata quindi non ce la fanno a smaltirla tutto solo il martedì alle rimanenze di magazzino no perché magari hanno un continuo smercio di questo questo materiale che rubano allora il martedì solo non è sufficiente 3 9 2 5 7 2 7 7 7 5 spogliamo però anche un po i quotidiani stamani perché andrà seguito sicuramente per forza di cose mossuto no tutto il dibattito la questione delle del nuovo piano per l'area unesco e non solo per l'area unesco cioè limiti ulteriori in alcune strade del centro dove non si possono aprire tipologie di attività commerciali se non di un certo tipo e in più l'estensione di divieto di somministrazione anche in alcune strade fuori dal centro per esempio di nuove attività di somministrazione tipo via gioberti via pisana e via senise è la terza però nonostante questo ci sono storie come quella che racconta stamani repubblica via dell'albero bandiera bianca non ci sono residenti chiudo il negozio nuovo segnale d'allarme in centro laura stuto che tra l'altro è la presidente del centro commerciale naturale abbassa il bandone della sua erboristeria qui solo turisti sono fuori target abbiamo fatto proposte al comune nessuno ci ha aiutato sono stata lasciata sola ho dato tutto per l'attività aperta nel 97 per questa strada che ho difeso e protetto otto anni di proposte fatte a palazzo vecchio e nessuna è stata accolta erano tutte mirate a riportare fiorentini in centro abbiamo chiesto di rifare marciapiedi una nuova illuminazione cestini per i rifiuti il passaggio la fermata di un bustino elettrico nonostante il rimpallo tra gli uffici nulla è stato fatto e quindi l'esito lo diceva mossuto era il sodio che critica meno male lo dice una che è lì sul territorio niente è stato fatto appunto nonostante ripetuti questo ce lo dobbiamo domandare noi all'amministrazione fiorentina come mai non fa niente si parla solo di reprimere anche per quanto riguarda noi abbiamo fatto una proposta per quanto riguarda i mini market gente invece di farlo solo in alcune strade dopo il nostro continuo martellamento di farlo estendere a tutta la città di firenze perché tutta la città di firenze ormai è degradata e quindi questi questi mini market che vendono sostanze alcooliche portano degrado portano risse portano malavita e quindi è normale che si debba estendere in tutta la città di firenze la chiusura di questi mini market come tutti gli altri negozi gli altri negozi di regola chiudono alle 20 la chiusura ok l'orario non delle licenze poi se logicamente se queste persone una volta due volte tre volte sgarrano e si può anche chiudere la licenza se uno non rispetto c'è la sospensione noi della lega siamo ma come le persone ormai non è che io sono della lega quindi sono un extraterrestre una persona normale che vuole il rispetto delle regole come vorrebbero tutti però però questa è una questione più che riguarda la sicurezza sul fatto della possibilità no di altri altra tipologia commerciale di stare su una strada cioè dice la signora che deve chiudere l'erboristeria qui mancano i residenti e quindi siamo sempre lì una città senza un centro senza residenti come fanno a sopravvivere l'erboristeria come fa a sopravvivere il ferramenta come fa a sopravvivere questi negozi chiudono anche perché poi invece chissà come mai alcuni tipi di negozi invece aprono quelli chiudono i poveri italiani chiudono molti altre persone di altre etnie aprono anche questa è una domanda e ci facciamo tutti no come mai ci sono cinesi che aprono dappertutto lo possiamo dire tanto dipende dalla tipologia e dipende da perché apre ma come mai gli italiani aprono e chiudono e i cinesi aprono anche questo bisognerà che qualcuno ma da tanto che si dice non è che lo dice mossuto ci sta che qualche cinese chiuda anche per esempio nella zona pratesi ora con con la crisi del 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 tessile ci sta che vedremo anche qualche cinese chiudere andarsene però insomma io per ora vedo vedo un gran proliferare comunque va bene allora facciamo così ci fermiamo qualche istante di pubblicità poi ci sono i messaggi dei nostri ascoltatori al 39 25 72 77 75 questa è la di radio grazie a tutti grazie a tutti Buongiorno Pini, buongiorno Radio di Radio, Angelo da Firenze, per me il TESI è l'unica soluzione, l'unica soluzione che può mettere a tacere l'eventuale disturbatore senza rischiare di rimanere incolumi, quindi è l'unica soluzione possibile, quindi male minore cosa? Cioè a magli estremi, estremi rimedi, ragazzi è inutile starci aggirando al problema, buona giornata! Oltre all'assalto agli agenti, oltre all'uccisione della persona da parte degli agenti, la violenza è continuata con le parole di un ministro, il suo ministro Salvini, che festeggiava per la morte di un uomo, Pasquale da Roma. Ecco, sempre Pasquale. E questi messaggi, lei si rallegra pubblicamente della morte di qualcuno? Io la morte non mi ralleggo di niente, diciamo che la gente è esasperata, come esasperata di essere tutti i giorni bersaglio, oggi può toccare a me, domani può toccare a te, quindi la gente non ne può più e quindi siccome nessuno mi ha fatto, vorrei vedere a Pasquale da Roma se qualcuno lo credissero con coltello e cosa farebbe, se continuerebbe a parlare e dire le solite cose che dice la mano a mattina, i soliti spot che dice alla radio. C'è la libertà di me, se è la libertà di me, se è il ministro, è il ministro, e io faccio una domanda a lui, che cosa succederebbe se lui fosse aggredito, perché a parlare sono tutti bravi, bla bla bla. Ripetiamo, la regola è che qui si possono dire tutte le opinioni educatamente, senza offendere, senza... Infatti io ho risposto educatamente, ho detto che cosa succederebbe se toccasse a lui. Ci mancherebbe, infatti mica le ho detto... La gente esasperata non ne può più... Allora... La legittima difesa esiste. Però ascoltiamo, leggiamo anche i messaggi testuali dei nostri ascoltatori, Mossudo si vorrebbe dare il tesero anche agli autisti del bus, chiede Marco... Certo, no. Ma come sì? Perché no? Perché sono poliziotti. No, non si può... Però, non sono poliziotti, però spesso e volentieri vengono aggrediti, io ne ho diversi che sono stati aggrediti, che difendo e quindi voglio dire, deve essere anche un deterrente, le persone devono sapere che questa persona, se viene aggredita, ha qualcosa per difendersi. Non vedo che cosa ci sia... Logicamente, se vengono addestrati per l'uso e tutto, perché no? Fabrizio mi scrive che Piazza Dalmazia è il Far West, ci siamo stati anche a fare dei servizi, Fabrizio, facci sapere se è il caso che si debba tornare... Piazza Dalmazia, da quando c'è la tramvia, è diventato un Far West perché la gente scorre di qua di là, lo stesso anche lungo il percorso della tramvia che va verso... dalla fortezza che va verso Careggio, uguale, lì tutti si lamentano perché questa tramvia porta... Mentre... Ha portato degrado. Mentre... La tramvia è un veicolo, diciamo, delle persone... È un veicolo dove tutti gli spacciatori vanno di qua di là e portano degrado, certo. Per questo, se ci fosse la tramvia... Ci sarebbe stata un'altra geografia, probabilmente, dello spazio, se non ci fosse stata la tramvia. Facciamo più controllo. Controlliamo e facciamo di tutto perché si renda sicura la tramvia. Mi va bene? Allora, no, forse a livello trasportistico ci possono essere delle buone ragioni per preferire un altro sistema alla tramvia, ma non che sopra ci vanno gli spacciatori, no? Ma è la verità, è la verità. Sì, no, perché è da certo. Parliamo del mondo reale. Il mondo reale dice che tutte le persone residenti lì, da quando è venuta la tramvia, si muove la tramvia e fanno tutto quello che devono fare. In piazza Vessier, tutte le piazze dove passa la tramvia. La realtà è questa. Leggiamo anche qualche altra notizia sui quotidiani, poi abbiamo molto altro da dire. Innanzitutto c'è un aggiornamento su quell'omicidio che è avvenuto, appunto, scotendo Chiesa Nuova, questa frazione, perché Scutti, il 22enne, Mattia Scutti, che ha sparato uccidendo la zia Laura Frosecchi, aveva una vecchia rivoltella, un'arma, si è detto, che non era censita, non risultava, è praticamente, a quanto ricostruito, una pistola che risale alla guerra e che veniva, era stata ereditata, tra virgolette, cioè veniva passata di mano in mano dagli anziani del paese. È una storia veramente incredibile, che aggiunge incredulità a un altro omicidio che ha lasciato tutti senza parole. Allora, altra notizia invece, sul Tirreno di Firenze, il quartiere 4 lancia l'allarme sul 5G. Funaro, monitori le antenne, il quartiere chiede alla sindaca il piano dei ripetitori, esposizioni più basse e un monitoraggio sulla salute. E ora rischia di esplodere un nuovo caso, dopo quello, in regione dello studio commissionato, voluto, appunto, anche dall'assessore Ammonia Monni, per gli effetti del 5G. Alcuni, anche a sinistra, avevano detto, insomma, ci sono già fiori di studi che hanno detto che non c'è niente di cui preoccuparsi. Adesso, insomma, la richiesta arriva anche dal quartiere 5. Allora, mostro, abbiamo tanti messaggi vocali, quindi ripartiamo dai nostri ascoltatori. E poi ci dice anche cosa ne pensa, magari, anche della necessità di fare studi sul 5G. Buongiorno, Fini. No, il Taser funzionerebbe se fosse messo con voltaggio e gli usano in tutti i paesi europei e negli Stati Uniti. Però l'Italia, come sempre, si diminuisce. L'altra volta, con un poliziotto, si prese delle cortellate perché, spalando i Taser, questo di avere un giubbotto non gli fece nulla. Io sarei di più. Oltre con i Taser, è un bel fucile a pompa con le pallottole di plastica. Capito? Quando è Leonora, visto che anche quello le ammazza, no? Sai, nelle garettine sui ginocchi. Sai, una bella... E tu vedrai che povero ci ripenserebbe a fare qualche cosa. Grande Mossuto, noi lo volevamo anche al contraddittorio faccia a faccia pomeridiano, destra-sinistra. Non solo il mattino dalle 7.05 alle 7.30. Buongiorno. Buongiorno, sono Alessandro da Firenze. Io mi meraviglio che il signore avete oggi in radio, sia un avvocato. Cioè, veramente. Su delle dichiarazioni di un ministro, questo dice l'esasperazione della gente. Ma in trasplazione della gente che? La forza dell'ordine l'hanno fatto il suo lavoro. Si sono difesi, ok? Ma non credo ci sia da rallegrarsi se hanno ammazzato una persona. Io penso anche a quel povero agente che ha dovuto uccidere. Penso... E lei è un avvocato. Mi meraviglio di questo. Veramente, guardi. È una cosa... Lei dovrebbe difendere la legge. Difendere i motivi per cui c'è la legge. Sì, buongiorno. Non so chi sia il vostro ospite o non rionosco dalla voce. Però mi sembra che gli starebbe bene nei Far West. Sì, che lo chiamo Jesse James. Onestamente capisco il problema che è serio e tutto. Però che un ministro venga a esultare, ragazzi. No. Un ministro rappresenta un paese. Ma che figura di cioccolata si fa davanti a tutti? Come si passa davanti agli altri governi? Questo rappresenta l'Italia. Questa è la gravità. Poi, sul fatto, se ne può parlare. Ma su Salvini, che commenta in questa maniera, è incommentabile. Ciao da Candice in inglese. Dani mi scrive, caro Mossuto, Salvini non è un cittadino esasperato. È un ministro. È semplicemente vergognoso il suo comportamento. Io ho detto, se si risentono le parole, io ho detto, non ho detto certo rallegramenti, rallegrarsi, come diceva il signore. Forse è distratto perché sentiva, doveva guidare. Io non ho detto, io ho detto solo che la gente è esasperata. E non ne può più di questa cosa. E ho detto anche che una persona che muore, non c'è mai niente da essere felici. Questo qui è quello che penso io. Quindi se voi mi mettete, come al solito, la sinistra mette in mano, mette in bocca parole che io non ho detto. Non so se sono ascoltato la sinistra. Ma sicuramente, perché io non ho detto certo, non mi sono certo rallegrato, come dice lui, di quello che è successo. Assolutamente no. E sentite, la trasmissione, se vuole, il numero ce lo manda e la rimandiamo. No, 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 lo posso dire anche io. Gli ho fatto la domanda precisa, se le si rallegrava. Ma non si riferivano a lei, infatti si riferivano a Salvini. No, perché uno ha detto perché fa l'avvocato, cioè tutte cose, attacchi personali. Forse io invece mi rarregrerei se lei facesse una visita dall'Otorino. Quello sì. Allora, Niccolò mi scrive, guardate, giusto per misurare la febbre della città, la pagina Facebook di abusismo e degrado di Firenze, sembra un bollettino di guerra giornaliero. Ora, guardate la pagina Facebook. Sono tutti buonisti, sono tutti bravi questi signori che parlano. No, ma ne ho detto anche quello di prima. Vabbè, ma non è che se la richiede, non serve regare al dito, è normale. Se succede ci confrontiamo, sai anche a me quanto mi dicono tutti i giorni. Bene, ma confrontarsi sulle cose reali con noi dici. Se uno dice A e dicono B, bisogna, se no, passi il messaggio sbagliato che la gente dice tanto per parlare. Senta, Musuto, secondo te è necessario monitorare le antenne dei 5G? Sicuramente, bisognerebbe anche fare uno studio per capire se davvero queste antenne fanno male oppure no. Non ne sappiamo molto di questa cosa qua. No, insomma, ci sono tanti studi che sono stati fatti, hanno detto, hanno escluso, poi chiaramente fino a prova contraria. Sono solo che ogni pochino esce un'antenna su un palazzo che non avevamo visto il giorno prima, quello sì. Però poi se venisse fuori davvero che fanno male, c'è un problema, che facciamo con i nostri telefoni? Non li buttiamo nel vater? Quello è un problema, secondo me, serio. È molto serio che... No, c'è troppo interesse. Per invitarla alla prossima puntata le invierò un piccione. Tanto, insomma, c'è da volare anche poco da qui allo studio. Sì, abbiamo 100 metri. Ci arriva, non si perde. Grazie a Guglielmo Nostuto che è stato con noi. Buona giornata. Allora, arriva Leonardo Petri. C'è prima pagina viola, c'è da parlare di questo 6-0 della Fiorentina a Lecce. Non so esattamente cosa... Da Champions. Secondo me, sì, proprio Leonardo Petri, Stavanni parlerà di una Fiorentina da Champions, ne sono convinto. Noi ci ritroviamo alle 8, parleremo invece di trasporto pubblico, a cominciare dagli autobus, ma non solo, perché oggi c'è anche un incontro che riguarda i pendolari, i treni in regione. Questa è la di radio. Grazie. 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 Buongiorno a tutti. la Fiorentina vola e voi vedo già state scrivendo mi fa piacere scrivete scrivete in tanti vedo che ci sono già dei vocali quando la Fiorentina vince mi scrivete con affetto mi fa piacere allora iniziamo con i numeri ve li do subito subito sms whatsapp 3925 727775 poi per chi volesse telefonare così parliamo direttamente vis a vis 055 57 26 37 la Fiorentina vince 6 a 0 a Lecce la classifica Arride ai Viola naturalmente in questo momento la Fiorentina sarebbe in corsa per l'Europa League immagino la gioia di Firenze oggi la voglio sentire tangibile quindi voglio sentirvi soddisfatti cosa vi ha detto questa partita dove può arrivare la Fiorentina quali sono i reali valori di questa squadra qual è l'obiettivo Europa League Champions League fatemi sapere fatemi sapere cosa ne pensate e naturalmente voglio che siate puntigliosi anche su ciò che dico io mi raccomando naturalmente sui titoli titoli dei giornali si chiama prima pagina viola questa rubrica quindi bisogna anche affrontare i titoli dei giornali oggi il meglio del trito e ritrito quando la Fiorentina vince una partita abbiamo di tutto Valanga Viola Valanga Viola sulla Gazzetta dello Sport è una Fiorentina storica secondo il Corriere dello Sport in effetti erano 58 anni la Fiorentina non vinceva in trasferta segnando 6 gol poi abbiamo naturalmente Repubblica Fiorentina extra large passeggiata a Lecce la classifica sorride Corriere Fiorentino goleada e rilancio la Fiorentina travolge in Lecce e torna nei piani alti della classifica addirittura una vittoria alla SIN Viola a Valanga di nuovo, di nuovo travolto in Lecce travolto in Lecce La Nazione Sestina Show il film perfetto game, set, match Viola a forza 6 e poi naturalmente come è ovvio si va sui singoli sui voti i voti che portano Cataldi 8 e mezzo 8, 8 e mezzo non si scende di lì col Pani 8 non si scende di lì giustamente abbiamo i voto Palladino altissimo Palladino e Citterio in coppia o solo Citterio siamo 7 e mezzo non si scende di lì quindi euforia vera euforia vera quella per la Fiorentina neanche turbata neanche turbata dall'infortunio immediato a Gudmundsson e dalla distorsione alla caviglia per Ken allora per 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 Gudmundsson si parla di un problema ai flessori della coscia destra invece di una distorsione alla caviglia sinistra per Moise Ken allora Gudmundsson salta sicuramente la Roma Ken salta Sangallo giovedì proverà ad esserci con la Roma naturalmente poi monitoreremo monitoreremo nel corso della settimana allora 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 ecco questo è il primo messaggio della giornata ah 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 il brodo del tuo eroe italiano è certo naturalmente levate il no levate il fiasco ancora se ti parla però forse è quello prima era 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 l'avvocato o Piri il fiasco la va levata all'avvocato o a Piri era prima in ordine temporale era prima ciao ciao Petri sono Alessio da Firenze quest'anno per ora tu ne hai non ne hai indovinata una deghe ha bollito mai detto Gud va in galera mai mamma non l'ha mai detto ho detto che pur di non giocare con certi giocatori si sarebbe dichiarato colpevole era una provocazione una battuta era iranico andiamo avanti Cataldi non è buono no ho detto che Cataldi è uno scarto della Lazio cosa peraltro reale questo non significa che possa far gol con la Fiorentina la Lazio se voleva Cataldi lo teneva lui ci sarebbe rimasto ve lo ha detto appena è arrivato che sarebbe rimasta la Lazio se la Lazio l'avesse tenuto Ken tre gol in due anni ma se io ho detto che Ken avrebbe fatto 15 gol quest'anno alla Fiorentina in infradito e col cigaro in bocca te non ne stai azzeccando una mio mio Palladino non mangia il panettone ancora non ci siamo io l'ho già mangiato il panettone ieri mi sono divorato il primo panettone della stagione e Pradè incompetente direttamente torna a letto no no stamattina sono sveglio alla grande per ascoltarvi tutti voglio i vostri messaggi ma quale Champions se non perdiamo domenica prossima possiamo lottare per l'Europa League comunque attenzione la mette Bellina comunque Moreno e Pongra c'è ottimo acquisti noto dell'ironia noto dell'ironia allora possiamo ambire allo scudetto possiamo ambire allo scudetto ce lo dice l'ottimo massimo è anche qui noto dell'ironia ma non c'è un po' da ironizzare ragazzi mi sembra un gasamento fin troppo ingiustificato il Lecce non è una grande squadra che trovandosi poi in dieci non è stato quel grande ostacolo cioè da dire rispetto a quella degli anni precedenti ha fatto un punteggio tendistico perché verticalizza di più gli obiettivi non cambiano una rondine non fa primavera fa vera siete scatenati stamattina scatenati Petri lo fai un saluto a Lory B da Petri Gruppo Lory B io saluto Lory B grandissimo Lory B lo saluto con grande affetto bella partita della squadra bel gol bravi tutti penso che ancora non ci muoveremo dal sesto settimo posto perché ieri ho visto diverse occasioni per il Lecce però bravi bravi finalmente si verticalizza Tommaso da Monaco ed ancora Cataldi scarto e non buono non ne prendi una italiano un brodo siete scatenati ogni volta che la Fiorentina vince siete scatenati contro di me ma va benissimo e allora io vi dico vi dico questo il primo quarto d'ora è stato una partita tragica perché la Fiorentina non l'aveva approcciata bene in realtà perché era la squadra lunga 60 metri che è risolato davanti che è uno dei motivi per cui c'è fatto male perché ha sempre dovuto lottare dal solo con tutti l'infortunio di Gudmundson l'infortunio di Gudmundson ha ribloccato da una marcatura asfiziante che lo limita molto e che temo lo limiterà molto in futuro colpare i primi quattro azioni quattro punizioni dal limite una munizione e poi lo sapete cosa non mi è piaciuto di ieri ve lo dico non mi è piaciuto il fatto che sul 6 a 0 un capitano che ha dimostrato di non avere la stoffa del capitano va a dare una smanata nel muso alla Kristovic e si fa morire rischiando il rosso sul 6 a 0 un capitano non si fa questo non si fa per il resto devo dire che è stata una partita in discesa totalmente in discesa e questo va benissimo ci sono nell'arco dell'anno partite che cascano bene quasi ripetibili e che le vince le porti a casa ma ragazzi è successo anche con l'italiano pur senza le grandi verticalizzazioni di Palladino eccolo 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 attenzione tutti i giocatori sono scarti di altre squadre almeno che non li abbia cresciuti nei pulcini Cataldi era un mezzo giocatore vero torna a letto guardate tutti i giocatori erano scarti Gudmunds non era uno scarto del Genome Gudmunds non era uno scarto del Genome sono scarti quei giocatori che le squadre di appartenenza non vogliono più tenere Cataldi nella fattispecie Bove nell'altra fattispecie Adli nella terza fattispecie da qui la definizione un centrocampo di scarti il patto che poi questi scarti essendo gli unici centrocampisti della Fiorentina oltre a Richardson giochino e diano il loro contributo ci mancherebbe altro meno male benissimo benvengano ancora eccolo lì stasera la Beozia Viola è scatenata a felcia stamani ma era largamente provvedibile ma io vi aspetto Turchi al Varco aspetta aspetta Ranieri non può giocare in Serie A italiano un brodo mi fate scompisciare dalle risate io vi ho chiesto amici miei carissimi dove può arrivare la Fiorentina dove dove può arrivare questa squadra ecco non ho avuto ancora una risposta di questo tipo solo attacchi a me solo attacchi a me che sono naturalmente poi naturalmente poi nella nella storia del campionato giornate come queste sono ricorrenti succedono accadono momenti positivi che poi si confronteranno con la realtà si bilanceranno col valore della squadra e la squadra otterrà esattamente il piazzamento che io mi avevo indiato allora però io che sono magnanimo che sono buono non 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 vi attaccherò non vi attaccherò continuerò ad ascoltarvi e continuerò a cercare di darvi le giuste dritte le giuste dritte allora è una Fiorentina storica perché in effetti erano cinquantotto anni che i viola non vincevano in trasferta segnando ben sei reti una c'è Polverosi Polverosi lo leggiamo dopo sul Corriere dello Sport una squadra che gira e un leone che domina sono sicuro ancora di sentire chi è il leone che domina c'è stato anche un brutto episodio che ha riguardato i tifosi della Fiorentina alcuni di loro alcuni ultras che si sono scagliati contro i tifosi della Fidelisandra solo il Corriere Fiorentino si è occupato di questa vicenda dopo anche qui leggeremo 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 qualcosa ma oggi siete voi i grandi protagonisti squadra troppo lunga e questo è uno dei motivi per cui Ken si è fatto male sei semplicemente patetico amico mio tu chi sei aspetta Stefano Stefano non ho detto che Ken si è fatto male perché la squadra era lunga ho detto che Ken riceveva solo palloni lunghi e quindi ha vissuto un primo tempo di continue battaglie uomo contro uomo uomo contro due uomini uomo contro tre uomini e in quei contesti in quei palloni inseguiti in quelle lotte per conquistare la palla si è infortunato caro mio negami negami anche questo se hai il coraggio a ah ah questo ah questo ah 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 no meraviglioso questa ah ah non ce la faccio a leggerlo questo è meraviglioso la perla la perla della mattinata caro ciao Petri ciao Petri il Verona nell'85 ha vinto lo scudetto con gli scarti delle grandi ammiro guarda sinceramente Andrea ammiro ammiro il tuo grande ottimismo ammiro la tua visione della vita guarda ammiro la tua visione della vita il Verona il Verona ha vinto lo scudetto ecco Tom 76 che finalmente mi risponde grande Tom caro Petri la Fiorentina è da quarto quinto posto quarto quinto posto Petri ci vuole qualcosa ah no aspetta prima ma è molto meglio di scarti Adli e Cataldi dei tuoi cari Mandragone e Biraghi ma su questo su questo puoi avere ragione su questo puoi anche avere ragione dai Leonardo non esagerare almeno per una volta abbiamo vinto bene non andiamo a cercare l'Aleon Glago nel pagliaio forza viola Petri ci vuole qualcosa a sinistra a centro Petri ci vuole qualcosa da sinistra a centrocampo a gennaio un vice Ken e poi siamo forti veri forti veri Matteo no gennaio non me lo evocare gennaio è un mese brutto per me un mese terribile un mese terribile i quattro giorni liberi hanno avuto i suoi effetti vedi Gudmundson ecco su Gudmundson non mi dite non mi dite che è una cosa normale che un giocatore abbia un infortunio muscolare dopo cinque minuti di partita non mi dite che è una cosa normale perché non lo è una cosa normale non la facciamo diventare una cosa normale i soldini dalla pubblicità ci fermiamo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Leonardo, però è anche vero, te lo dice uno che più o meno la pensa come te, anzi la pensa anche prima di te, è anche vero che ogni volta che la Fiorentina perde tu ti scateni contro di loro. Petri, buongiorno a tutti. Quindi ripeto, è bene tre punti ma è una vittoria che non fa testo. Picerno, Picerno, ma perché tieni questo che urla, che offende? Ma perché vuoi che qualcuno venga sotto la radio e quando esce questo gli dia tu sganassoni? Perché le offese si possono fare, ma si fa solo vis-à-vis. Non si fanno dalla radio nascondendosi dietro un microfono. Picerno, 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 picerno dai, levacelo per favore. Anche perché parla di Fiorentina, guadagna sulla Fiorentina, ma spusa sulla Fiorentina e non va bene questo. Andrea, canavese, mi firmo sempre. Vedete ragazzi, noi ci divertiamo, parliamo di calcio, di sport, abbiamo opinioni diverse. Io sorrido quando voi ironicamente mi prendete in giro, io vi prendo in giro. Quest'ultimo messaggio invece è una chiara minaccia. Poi l'amico, io l'ho voluto passare proprio per far capire, ci sono anche personaggi come questo signore che non ha capito nulla del nostro spirito con cui affrontiamo le vicende della Fiorentina. Con ironia, con divertimento, con passione. Lui invece ricorre agli sganassoni, mi vuol dare gli sganassoni sotto la radio. E poi si lamentano, poi si lamentano, poi si lamentano. C'è tantissimi messaggi, ne leggiamo ancora qualcuno perché poi volevo confermarmi un attimo sulle vicende dei tifosi perché sinceramente merita secondo me di essere letto perché è successo ieri perché non mi è piaciuto. Allora io te l'ho detto, sei al settimo posto, comunque sia Bove che Cataldi, comunque sia Bove che Cataldi, sono molto rimpianti dalle rispettive tifoserie, come no? E leggere sembra che siano stati pure furgati per questioni monetarie e non tecniche. Ancora Tommaso Dammonaco, buongiorno, continuo a pensare che bisogna stare con i piedi per terra. E poi ancora, possiamo arrivare sesti se abbiamo fortuna, Marco Dallahonad. Poi Petri stamattina non sai cosa dire, non mi devi metterli in cacciata, Eric. Allora i messaggi di un mese fa erano allenatore che non sarebbe arrivato a Natale, mercato inutile, società incapace, andiamo in serie B. E ora dove sono tutti coloro, tutti coloro, è finito il messaggio, dove sono, dove sono tutti coloro che sostenevano questa tesi? Quindi ragazzi io vi do un consiglio in amicizia, il campionato è lungo, godiamoci questo momento, c'è stato un momento difficile all'inizio, c'è un momento di euforia adesso dovuto ai risultati, però la storia della Fiorentina e del suo campionato è ancora molto lungo. Allora i tifosi, l'assalto degli ultras della Viola con mazze e catene attacca i tifosi della Fidelisandria a Bari tra gli automobilisti in coda e terrorizzati, questo scrive il Corriere Fiorentino, hanno bloccato la circonvallazione, invaso la statale e assaltato con mazze e catene i fulmini di tifosi della Fidelisandria, prima di ripartire verso lo stadio Via del Mare di Lecce. Protagonisti di questa domenica di follia sono stati alcuni ultras della Fiorentina, tutti vestiti di nero e con il volto coperto che ieri intorno alle 13 hanno causato momenti di terrore sul tratto finale della tangenziale di Bari. Nei presti della frazione di Torri a Mare, verso l'ora di pranzo, dopo aver incrociato alcuni fulmini su cui viaggiavano i tifosi andriesi, avrebbero dato il via agli scontri, distruggendo finestrini e paraprenza di alcuni mezzi e abbaccandone la carrozzeria. Nei diversi video si vede come, nel corso degli scontri, sono stati anche lanciati fumogeni, la circonvallazione è stata bloccata a lungo, lasciando coda diversi chilometri. Sul posto sono intervenute alcune volanti, le indagini sono raffidate alla Digos di Bari e via così. Ecco, l'abbiamo visto, anche io ho visto alcuni di questi video, francamente non un bel vedere, devo dire, e la roba va stigmatizzata quando succede ad altri e quindi credo vada stigmatizzata anche quando succede ai tifosi della Fiorentina. Francesco da Lussemburgo, ieri finalmente, nonostante l'avversario fosse peggio del previsto, abbiamo visto una parvenza di gioco oltre a palla lunga, ossia palla semilunga dietro la linea avversaria. Ebbè, la palla semilunga. Ciao Petri, arriveremo in Europa League, palladino è concreto, italiano da fumo negli occhi. Sopravvalutato, sopravvalutato, ce lo dice Marco, ce lo dice Marco. Ma il che dice Tom? Se si arriva a quarti mangio un gatto con il pelo. Stefano, micidiale, grande Stefano. Allora, buongiorno maestro, non so dove potrà arrivare questa squadra, temo la rosa corte e le seconde linee non adeguate, e le ripartenze concesse sui errori di costruzione dei primi venti minuti e cuginiamo in ogni partita. Vediamo contro un allenatore come Juric, come ci troveremo? Mauro, caro Mauro, un allenatore come Juric, lo vediamo se resta alla Roma, perché ho molti dubbi che domenica la Roma avrà Juric in panchina e quindi staremo a vedere, noi abbiamo esaurito la prima parte, mi ha fatto piacere di ricevere tantissimi messaggi, ho cercato di leggere il più possibile, continuiamo a raccontarcela, poi dopo alle 12.30 in Radio Viola, prima però c'è il Caffè Viola con Mario e Duccio che stanno tornando da Lecce, stasera ci saranno le bombe delle 6 alle 18, quindi Petri Day, Petri Day ce le possiamo dire di tutti i colori e di santa ragione. Radio Viola alle 12.30, sì sì, sarò anche lì oggi con Stefano Sartoni. E adesso però c'è il GL del mattino, il primo, il primo della settimana, lasciate la macchina e prendete l'autobus, eh sì, facile, detta così, sono buoni tutti, ma dov'è? Non è passato, perché il TPL non funziona, ve lo spieghiamo noi, e in effetti non funziona ragazzi, la tramvia funziona, ma gli autobus mica tanto, ci fermiamo qui, arriva Fini, GL del mattino, ma torno, eh, torno alle 12.30, alle 9 in Caffè Viola, ciao a tutti!